io credo che sia partita effettivamente la registrazione andrea la registrazione partita lo stereo basso funziona abbiamo fatto il controllo acqua olio musica insomma tutto a posto ho messo le chitarre nuove a posto del dove dovevamo cambiare quei pezzi del motore ho messo le nuove corde delle chitarre anche le chitarre insomma ho messo tutto dentro tanto mi fa piacere volevo salutare innanzitutto gli amici che per la prima volta ci vedono anche in video è una nuova puntata questa che unisce la tradizionale versione che viene registrata qui e alle nostre spalle con questa nostra impostazione audiovisiva ma noi in realtà siamo sempre sullo stereo bus questa è la plancia c'è di tutto su questo tavolo infatti stereo bus è stata seguita devo dire con un buon successo fino a poco tempo fa e adesso grazie a questi audio visivi insomma finalmente finisce la trasmissione ecco perfetto ci volevano ovviamente questi saluti benaugurati naturalmente per dare inizio ovviamente a questa nuova versione noi non sappiamo esattamente quello che succederà nel corso di questi momenti che registreremo forse io mi emozionerò cadrò ovviamente disteso per terra ci saranno dei travestimenti poi mauro ha dei costumi brasiliani che tra poco ci farà vedere insomma questa è la parte della trasmissione c'è n'è c'è n'è veramente per tutti quanti tanto però c'è neanche di musica è sì perché le prediste ovviamente sono sempre ascoltate moltissimo innanzitutto qui tra gli ospiti di stereo bus ora effettivamente gli amici si accorgeranno che di grandi ospiti qui non ce ne sono apparentemente perché alle nostre spalle qui davanti a noi ce ne sono parecchi di ospiti beh sì abbiamo uno stereo basso pieno di artisti che poi sono la musica che fornisce la propulsione sonora lo stereo bassa quindi fondamentale per il programma ma soprattutto per il nostro viaggio esattamente ma tu non hai l'impressione che a volte a questi artisti a come dire vive in una sorta di circuito chiuso di sistemi che le riuso sì molto psichedelico certo perché noi siamo anche dei produttori dei disco grafici insomma abbiamo il nostro circolo chiuso non possono sgarrare assolutamente e c'è anche la tassa che ci versano ogni mese cioè praticamente allora noi ce la facciamo ce la progettiamo ce la suoniamo ce la registriamo e ce l'ascoltiamo pure noi e vabbè senti ma allora a questo punto io direi ce la sentiamo e vai vai